Ho scoperto che esiste una classifica delle città italiane per qualità della vita. Non so se lo sapevate, esiste questa classifica, ci sono dei parametri su cui viene stilata. Al primo posto c'è Parma, all'ultimo posto c'è Crotone, Milano si classifica abbastanza bene al quinto posto. E qui volevo soltanto dire che trovo veramente di cattivo gusto fare una classifica delle città italiane per qualità della vita. Mi sembra una cosa proprio triste, tipo bullismo infantile, mi ricorda quelle cose tipo la lista della più bella della classe alle medie, quelle cose proprio triste. Io mi immagino questa bimba bruttina all'ultimo banco, Crotone, questa bimba bruttina con i baffi, perché è calabrese. A cui arriva questo foglietto sgualcito, lei si vede all'ultimo posto, scoppia a piangere, guarda i suoi compagni e fa Comunque la mia mamma dice che sono specialissima.